inizio a piangere da solo in macchina, ma da solo e non l'avevo mai fatto, non mi era mai successo perché continuavo a dire boh ma servirà tutta questa roba, cioè sto facendo tutto questo sbattimento ma boh mi porterà davvero da qualche parte Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ciao a tutti io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e viva, iscrivetevi a questo canale così per non perdervi nessuna di queste incredibili puntate chiacchierate e incontri che personalmente mi danno e ci stanno dando tantissimo quindi continuate a farlo, se ci state ascoltando su Youtube super, se ci state ascoltando su Spotify grandi, potete farlo, anche lì oltre ad ascoltarci ci sono anche video, si possono scaricare questa è una roba bellissima e più andiamo avanti più siamo, questa è un'altra cosa molto bella, più andiamo avanti più le puntate si accumulano ed è per questo che siamo arrivati alla numero 100 ragazzi, la puntata numero 100 una puntata che insomma per molti versi è emotivamente speciale, oltre al di là ovviamente a tutte quelle che ci sono state con tanti ospiti, tante emozioni, tanti incontri speciali, questa lo è per tutta una serie di motivi e quindi insomma per settimane mi sono interrogato, ci siamo interrogati come avremmo potuto fare questa puntata 100, che ha un valore comunque simbolico e in qualche modo ho pensato che sarebbe stato bello, interessante un po' leggendo anche le vostre tante domande che sono arrivate in questi mesi le vostre tante curiosità e molti che chiedevano insomma questa cosa, insomma sarebbe bello approfondire o in qualche modo chiacchierare poi direttamente con te Gianluca, su questa cosa qui e allora io ci ho pensato, ho detto boh ma si può fare, facciamolo per la puntata 100 potrebbe avere senso, però non è carino che io parli direttamente a voi e basta, cioè dobbiamo mantenere lo spirito di Passa dal Basement nel cercare di raccontarvi tante altre cose e allora ho detto proviamo a farlo con un amico perché qua alla fine si incontrano gli amici e anche lì allora inizia a pensare e dici ma quale può essere la persona giusta che comunque ha a che fare con il mondo che proviamo a raccontare, con la vita che proviamo a vivere tutti quanti eccetera eccetera, allora io ho pensato un po' anche a come mai sta andando anche così bene questa cosa di Passa dal Basement come mai vi sta piacendo così tanto e sta avendo questo successo di cui sono molto contento perché alla fine in realtà al di là, al netto di tante altre cose funziona perché è qualcosa di cioè funziona per la genuinità e per la curiosità che ho io e che avete anche voi nel seguire queste puntate allora ho cercato di pensare tra tutti i miei amici chi potesse essere la persona più curiosa e più genuina per poter e con cui fare questa chiacchierata ed è venuto fuori il suo nome e io sono molto contento signore e signori oggi dal Basement è tornato Yaki Dale salve salve mi fai commuovere Gian Yaki guarda avrei potuto aggiungere mille altre cose e l'aggiungo subito in realtà un'altra uno dei motivi per cui ci tengo un sacco a fare questa questa puntata è perché tu sei stato uno dei primi a credere nel Basement perché sei stata una delle prime persone a venire qui quando ancora lo stavamo costruendo credevo nel Basement prima del Basement è vero è vero è vero è vero per tante cose al di là della nostra amicizia che dura ormai da tanti anni e da tempi non sospetti e quindi facendo uno più uno al netto di tutte queste cose appunto sei stato uno dei primi a dare fiducia se non il primo in assoluto venendo anche in alcune puntate ecco questa anche in una puntata mai uscita mai uscita mai uscita e quindi questa cosa io credo che poi nella vita abbia un valore inestimabile e quindi sono contento che in questa puntata speciale numero 100 ci sia tu a chiacchierare con me non siamo qui per parlare di me sì attenzione allora facciamo subito il colpo di scena d'altronde se sono io che passo dal Basement mi devo via via spostati prendo la tazza però perché comunque ok ok io ti lascio la tua ci stiamo per chi ci sta soltando ascoltando soltando ascoltando ci stiamo invertendo il ruolo io sto provando questo brivido che devo dire non ho ma hai la testa grandissima sì sì è una delle cose che una delle altre cose che mi dicono oh bella raga allora caliamoci nella allora finalmente posso anche testare e provare questo microfono perché una dato che rispondiamo anche a cose che ci sono state chieste una cosa che ogni tanto mi dicono è che l'ospite si sente ogni tanto basso e io rispondo subito dicendo che dipende da nel senso che io sono abituato a parlare al microfono quindi tendo a stare molto sul microfono poi vengono tanti ospiti che fanno altri mestieri quindi diventa un po' più difficile non è facile quindi vediamo allora aspetta quindi l'ho messa come stare dall'altra parte allora vedo a sbulla in primo piano lì e devo dire che anche questo mi rassicura però è effettivamente è diverso è diverso tu com'è com'è stare lì invece è bello ho questa cosa davanti che ha tutti i volumi sì però non la toccherò non farò niente in realtà schiaccia un tasto a caso degli effetti provalo è comunque l'effetto giusto spettacolo quindi in teoria se dobbiamo fare proprio la formula iniziale tu devi dire dal basement oggi passa Gianluca Gazzoli e usi quello lì per simulare il pubblico dal basement passa oggi Gianluca Gazzoli bella funziona partiamo dalle basi partiamo dal basement tu hai interessato un botto di gente sì esattamente 99 persone 99 persone tra cui anche me siamo passati da me a Valentino Rossi però c'è la cosa bella di cui sono molto orgoglioso che in realtà c'è un senso c'è un filo conduttore non è che uno vale più di un altro chiaro ci sono dei personaggi che hanno avuto e che hanno un'importanza è uno statement di un certo tipo e altri che magari ce l'hanno di un altro tipo però la cosa è che mi fa piacere che le persone comunque riconoscano è che tra tutti coloro che entrano qui c'è un filo conduttore di un certo tipo e in questo caso anche tra te e Valentino Rossi c'è un filo conduttore ok ok e tra tutti sì cioè tu hai intervistato da da Belinelli a Salmo sì qual è il il siparietto sì di cose successe fuori onda ok che avresti detto cavolo avrei dovuto avere la telecamera accesa per raccontarla allora ce ne sono un po' perché poi la cosa bella è che appunto quando vieni al basement vieni davvero al basement quindi vieni in un luogo non vieni semplicemente al podcast quindi vieni qui sei qui respiri un po' l'aria che respiriamo qua tutti i giorni e la cosa che dico sempre che apprezzo è che tutti riconoscono il fatto che in questo posto ci sia un'energia particolare dovuta al fatto che è un posto vero autentico ci sono nulla che è qui dentro il soprammobile ogni cosa ha una storia quindi magari con gli ospiti ti soffermi ogni tanto a raccontare qualcosa che ha a che fare con le cose che vedono quindi uno racconta la sua passione magari legata anche a quella cosa che vede quindi sarebbe stato bello con alcuni anche vedere le loro reazioni quando vedono alcune cose qui dentro e quello che raccontano di cose fuori onda ne sono successe tante anche se poi io cerco sempre di fermarmi perché poi voglio che tutte le cose che ci diciamo vengano all'interno del podcast quindi in modo che io possa avere una reazione e anche l'ospite possa avere una reazione spontanea di quello che sta provando che dice che succede però ce n'è una secondo me molto bella allora sono contento che per questa puntata 100 ci sono altre persone qui che fanno parte del basement e su questa cosa vengo ancora preso per il culo perché quando è venuto Danilo Gallinari la racconto quella è simpatica Danilo con cui siamo amici sono molto contento una cosa che mi ha impressionato che mi ha fatto capire che stava succedendo qualcosa di speciale era che noi era estate avevamo lasciato le porte aperte questo è un basement nel senso che è davvero un basement cioè siamo sotto perché molti pensano non è un rooftop è un basement avevamo lasciato le porte aperte perché era estate io stavo sistemando una cosa qui dentro vedo un ombra con l'occhio ed era Danilo che era qui al centro del basement da solo arrivato tranquillo come quando vai a casa di un amico questa cosa è fighissima quindi già questa cosa mi aveva colpito molto poi abbiamo fatto la nostra chiacchierata io prima di iniziare comunque come quando viene uno diceva Danilo vuoi un po' d'acqua hai sete vuoi qualcosa lui no 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 dai vuoi un po' d'acqua c'è un po' dai no 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 finisce la chiacchierata faccio Danilo dai vuoi un po' d'acqua e fa dai va bene vado a prendere l'acqua e quando mi accorgo che in realtà avevamo finito l'acqua però ormai a Danilo gli avevo chiesto se voleva l'acqua e allora c'avevo solo il rubinetto ma vuoi un po' d'acqua nuova c'è quella del rubinetto quindi ho offerto dell'acqua del rubinetto a Danilo Gallinari e lui mi ha guardato no grazie guarda sono a posto vabbè in America t'ha puoto ovunque sì beh è vero quello è vero potrebbe non essere però ancora mi prendono per il culo per questa per questa cosa però non sapevo più come uscirne ormai avevo chiesto se voleva dell'acqua c'era solo quella del rubinetto e tu cosa fai? ti prepari prima di una puntata ti studi l'ospite ti prepari delle domande questa è un'altra cosa a cui tengo molto e che credo possa essere anche un po' la forza e la differenza anche con tanti altri è che non è che adesso dico una cosa forte non è proprio così però non mi preparo nel senso io so chi è l'ospite so chi viene so che cosa fa che tante volte anche quando non è un amico che magari già conosco so che cosa vorrei tirar fuori da quella da quella chiacchierata però non ho mai delle domande scritte non mi preparo mai niente ma nasce tutto dalla curiosità che ho che ho dentro da quel dall'empatia che si genera con l'ospite e quindi reagisco molto a quello che lui a quello che lui dice in quel momento quindi io non ho autori come magari in tanti altri podcast ma non c'è niente di male magari sono due o tre autori eccetera io vado molto su quello che è la mia sensazione e la mia sensibilità e e a questo però nel senso ci sono arrivato dopo tanti anni non è che sono partito così ed è il motivo per cui ci tengo anche a sottolineare questa cosa secondo me la forza è la spontaneità però a questa spontaneità ci sono arrivato con un percorso di lavoro di tanti anni eccetera eccetera però è proprio come quando tu cioè se tu vai e sei al bar a chiacchierare con un tuo amico non è che ti prepari prima le domande che gli vuoi dire no cioè ti vengono mentre tu sei lì quindi lui ti dice una cosa invece tante volte vedo quelle interviste per cui magari io ti faccio una domanda tu mi dai una risposta magari assurda tipo sì sono stato a vedere quella partita poi mentre ero fuori ho picchiato un senza tetto eccetera e molte volte quello che fa la domanda sta pensando a quella successiva non si accorge che gli ha detto questa cosa ti fa sì ok però allora il risultato no cazzo ti ha detto che ha fatto una roba così cioè cerca di capire e quindi la cosa la cosa bella secondo me che nasce per cui poi ci si sente anche un po' a proprio a proprio agio proprio perché è una chiacchierata vera e mi interessa davvero quello che le persone dicono cioè se no non le avrei invitate sostanzialmente a casa mia chiaro chiaro sono tutti o tuoi amici direttamente o conoscenti o comunque gente che è stata nel tuo percorso direttamente o indirettamente sì c'è da dire che ho iniziato sicuramente con i miei amici uno perché il progetto ancora non lo conosceva nessuno e mi fa molto piacere che magari alcuni amici incontrati lungo il percorso si siano filati di me siano venuti qui a fare questa chiacchierata e soprattutto all'inizio quando magari anche i numeri banalmente che molti guardano erano un po' più bassi la gente veniva per il valore del contenuto quindi della chiacchierata che andavamo a tirare fuori quindi al di là del quante persone l'avrebbero visto chi l'avrebbe visto avrebbe avuto una certa impressione eccetera poi ovviamente crescendo è capitato anche e capita tuttora che ci siano anzi è una bella occasione il fatto che io conosca delle persone direttamente a questo tavolo e quindi questo rende ancora più spontanea a volte la chiacchierata ed è bello vedere insomma quando hai anche un po' di tempo per sviluppare la chiacchierata poi se uno ascolta attentamente lo capisce che all'interno della chiacchierata che dura mediamente un'ora è proprio una progressione quindi inizi che veramente stai cercando di capire magari anche l'ospite cerca di capire e poi pian piano ci si lascia andare un po' da tutte e due le parti io mi sento un po' più libero magari di fare delle domande un po' più personali l'ospite si sente un po' più libero di raccontarle e quindi questa è una cosa che succede anche con chi appunto non conoscevo prima ma che ho conosciuto lì la cosa bella è che poi da qui magari nascono anche dei rapporti per cose che accadono fuori ed è forse la cosa più 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 bella e appunto non è però tra tutti c'è un filo conduttore che dicevo prima insomma chi invito a sedersi qui a chiacchierare è qualcuno con cui io sento qualcosa di avere in comune cioè qualcosa in comune ma anche cioè può sembrare assurdo ad esempio è venuto Rosa Chemical e io con Rosa Chemical di base non ho niente tra virgolette in comune però ero realmente curioso di conoscere quali fossero le sue i suoi pensieri ed era uno che non è che buttava le cose lì a caso giusto perché doveva farsi vedere in qualche modo e quindi alla fine ne è comunque nata una chiacchierata molto interessante perché c'erano dei c'era un pensiero c'era un ragionamento c'era una serie di cose che potevano essere veicolate in un certo in un certo modo quindi mi fa piacere che oltre al contenuto pian piano sia diventato importante anche il contenitore quindi il fatto che magari qualcuno viene qui ma è stato anche da altre parti il fatto che sia venuto qui inizia ad avere un valore perché lui può esprimersi magari in un modo in un modo diverso ecco la cosa più bella è vedere quando non so se quando uscirà questa puntata l'abbiamo già fatto uscire eccetera ma ci sono delle piccole clip di di fuori onda sempre tornando alle cose che avrei voluto far 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 vedere che non ho registrato di quando l'ospite si toglie le cuffie abbiamo finito ed è capitato sia con i personaggi più 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 grandi che quelli più piccoli per modo di dire che dicessero oh finalmente cioè finalmente ho potuto dire questa cosa ho potuto raccontare questa cosa ho potuto e questa è credo la soddisfazione più grande sì secondo me la cosa bella del basement è che veramente dai tanto spazio cioè sicuramente rispetto alla radio dove è tutto molto più condensato ma sicuramente anche rispetto a tanti altri podcast dove poi si finisce per dire sempre le stesse cose e tu hai questa cosa che riesci a scavare ma senza risultare pesante cioè si chiacchiera e poi a un certo punto viene fuori sì è figo questa è un'altra cosa che mi ha colpito nel senso che poi molti tra le cose che piace dicono no ma perché poi tu lasci parlare l'ospite beh cazzo l'ho invitato a casa mia è un ospite molto importante nel senso hai qua magari una personalità grossa cioè se io non ti lascio parlare e non ti faccio raccontare a te le cose che cosa ti ho invitato ti ho invitato a fare cioè ho altri modi io per raccontare chi sono quello che faccio oggi sicuramente parlerò di più di tutte le altre puntate di Passa dal Basement però ho altri modi ho anch'io un ego che sicuramente va in qualche modo alimentato ma lo faccio in altri modi quando c'è questo quando c'è questo momento insomma è una cosa anche che ho imparato strada facendo non è che sono nato così cioè il motivo per cui poi ho iniziato a fare questo podcast era sicuramente un'esigenza di voglia di comunicare di raccontare delle cose e che magari il radio che invece è il mezzo in cui ho imparato gran parte di questo mestiere chiaramente ha dei tempi diversi delle situazioni diverse se magari non mi permetteva di poter fare certe cose quindi questo me lo permette di fare quindi quando io io avevo già iniziato una cosa del genere anni fa nel 2018 circa con un altro progetto che si chiamava Iceberg perché vedevo che non solo io avevo questa esigenza ma anche la gente aveva voglia di iniziare a vedere dei contenuti lunghi di gente che parla che si racconta ed era andato anche molto bene però in quel periodo non avevo nella forza strutturale per poterlo continuare non avevo il tempo perché ero molto ero appena arrivato a Radio DJ quindi dovevo spingere in quella direzione dovevo cercare di affermarmi lì come tante altre cose che stavo facendo nel frattempo però questa cosa poi è andata avanti in America già i podcast stavano iniziando e quindi quando ho visto che anche in Italia chiunque stava facendo un podcast o c'erano tante occasioni che dicevo cavolo ma c'è quell'ospite lì ma quella cosa lì perché non è venuto fuori questo perché non quindi ho detto cacchio lo voglio fare anch'io lo faccio già a livello più alto in radio cioè nel livello più alto possibile voglio provare a farlo anche io e il web come tu mi insegni ed è questa è una discussione che è una chiacchierata che abbiamo fatto sempre tante volte mi ha dato questa grande possibilità cioè la possibilità di prendermi una possibilità perché questa è un'idea che io avevo proposto tantissime volte a chiamiamoli media tradizionali però per mille motivi no non lo so cioè o non volevano credere in me o non volevano credere nel progetto in anni addietro probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di dire va bene lo faccio lo stesso cioè oggi insomma abbiamo la nostra generazione ha sicuramente un miliardo di problemi io da quando ho finito la scuola che si parla di crisi che si parla di mille problematiche però abbiamo una risorsa che non esisteva prima che i nostri genitori non hanno mai avuto che è internet e internet che viene demonizzato in realtà il web utilizzato nel modo giusto è una potenza senza senso cioè puoi arrivare a chiunque se hai una cosa che funziona può arrivare e diventare grande e può darti una possibilità quindi in questo caso l'idea era sicuramente avere la possibilità di prendersela da soli e quindi in qualche modo il web mi ha dato questo questo spazio dove dire ok proviamo a farla proviamo a farla lì però chiaramente ci volevano tanti altri fattori tra cui poi il basement che era una cosa particolare sì poi io ti ho visto partire molto in quarta nel senso che questa la racconto sì secondo me tu partivi molto con l'ottica del ok devo partire il mega studio la mega produzione videomaker questo quello quell'altro adesso siamo alla puntata 100 con te che hai sistemato le videocamere tua sorella che ha schiacciato rec capito che è incredibile questa cosa sì uno pensa o pensa che ci sia dietro chissà che cosa invece cioè nel senso c'è l'idea poi quando è partito il basement eccetera sempre guardando un po' quello che facevano gli altri era quello di renderlo un po' più sì no più che altro era renderlo un qualcosa cioè oggi non puoi pensare di fare una cosa tu puoi fare la cosa più figa del mondo ma se la fai 5 volte se la fai 10 volte è come se non l'avessi fatta tu devi riuscire ad avere una struttura o un qualcosa che magari non è Hollywood ma ti permette di andare avanti un anno cioè o un anno e mezzo chiaro perché i risultati veri non si ottengono nel giro di poco di poco tempo così come nella così come nella vita nei percorsi questa è un'altra cosa che ho imparato se vuoi fare una cosa bella che abbia un grosso risultato un grosso riscontro che poi duri nel tempo devi mettere avanti almeno un anno in cui non succede niente in cui tu vai fai una roba non hai nessun ritorno non hai nulla però vedi pian piano comunque ci sono dei piccoli passi avanti quindi il fatto di riuscire a programmare una cosa che riuscisse a essere sostenibile dalla squadra che c'è all'interno del basement questo sicuramente è qualcosa che da quando sono partito ho detto bisogna fare una roba che dipendentemente da come vada però questo è stato un discorso fatto anche a tutte le persone che lavorano al progetto perché io chiaramente ci metto la faccia racconto eccetera però se non fosse stato anche per altre persone perché poi sono partito in quarta anche come come idea di format e di cose da fare cioè guardandomi intorno anche dall'esperienza di questi anni non è che parto e faccio solo questo cioè chi fa questo deve fare cioè poi devi avere la parte video devi avere il reel su instagram il tiktok tutta una strategia un sistema e martellare sembra tutto facile quando lo fanno gli altri poi provi e dici quindi da una parte c'è la sostenibilità di questa del fatto di riuscire ok perché il basement è il è il nostro headquarter c'è anche Albi che è il mio manager con cui abbiamo fatto tutto questo progetto dall'inizio e poi ti racconterò bene anche come è partito perché poi questo secondo me è molto forte e in qualche modo c'è c'è tutta dietro una una struttura importante in tutta la parte di background di strategia di confronti di seghe mentali che ci facciamo tutti i giorni di ma no ma questo va bene questo non va bene no rifacciamo questo risistemiamo quindi c'è un'attenzione al dettaglio da quel punto di vista un martellamento dal punto di vista anche del continuare anche perché io vedevo l'altra cosa cioè io vedevo quello che facevano gli altri però se tu fai quello che fanno gli altri perdi tu devi fare una cosa diversa se no quella la stanno già facendo gli altri che poi funzionano in molti casi funzionano aprono anche delle strade però ok tutti fanno questa roba qua e fanno una puntata a settimana noi facciamo facciamone due anzi addirittura ne abbiamo fatte tre per i primi cinque mesi di puntata a settimana e questa cosa qua era una cosa diversa e che effettivamente ha spiazzato ho detto facciamone due tre ma senza perdere la qualità mantenendo il livello degli ospiti cioè io addirittura questa cosa un domani me la immagino tutti i giorni perché è una cosa cioè il basement in generale perché come dire ho avrei potuto farmi i fatti miei e dire ok continuo con la radio sto facendo delle cose anche in tv i social sì mi diverto racconto delle cose però il futuro sta andando sempre di più in questa direzione cioè che ok quelle cose lì che ci sono che prendono un target ben preciso però sempre di più noi siamo il media cioè siamo noi gli editori di noi stessi no? e quindi sempre di più secondo me ognuno di noi dovrà ragionare in questo in questo modo e quindi avere un luogo fisico dove poter avere un posto dove stimolante per le idee dove incontrare persone dove formare una squadra perché poi mi riallaccio quello che dicevo prima cioè il fatto di poter avere un posto così mi ha permesso anche di avere delle persone con cui lavorare insomma in cui credere e vedere loro e che ringrazio e sono contento di fare questa puntata anche per poter parlare di loro ad esempio di Andrea che è una persona con cui ho iniziato qual è il dream team del baseball allora in questo momento la cosa bella è che siamo anche aumentati e quindi questa è una cosa è una cosa interessante quindi oltre ad Albi che ho già citato con cui seguiamo tutta la parte poi della struttura del progetto anche degli sviluppi per capire come come fare c'è Andrea con cui Andrea Guglielmi con cui abbiamo collaborato dal giorno zero in cui ha creduto in questo progetto fin dall'inizio perché ripeto le risorse ci sono ma sono molto limitate quindi se tu fai parte di questa cosa è perché in qualche modo ci stai credendo e tu sai bene che quando fai questo tipo di lavoro non ci sono molto le dinamiche di un ufficio inteso come ok io entro e firmo il timbro del cartello è una roba in cui tu credi e in qualche modo cioè io spero di essere stato bravo nel in qualche modo infondere questo tipo di di credo o comunque questo tipo di entusiasmo nel progetto però gli altri sono stati bravi nel crederci insieme a me e quindi ad esempio Andrea con lui seguiamo tutta la parte di strategia social lui si occupa di coordinare tutta la parte delle uscite proprio perché io fisicamente le prime cose le postavo io però poi per la quantità di contenuti che facciamo adesso era infattibile quindi ci vuole comunque un'altra persona che però non è ecco l'altra cosa difficile di oggi e chi fa qualsiasi tipo di lavoro lo sa è trovare le persone cioè le persone sono quelle che fanno la differenza in qualsiasi progetto quindi le persone che tu hai attorno sono quelle che faranno decreteranno più o meno il successo del tuo progetto e tu devi avere sempre delle persone che in molte cose siano più brave di te perché se no è finita io credo di sapere fare tante cose ma in ognuna di queste cose ci deve essere qualcuno più bravo di me e il fatto che lungo il percorso io sia stato costretto a fare delle cose che non prevedevo di saper fare cioè tipo ho iniziato facendo la regia del programma di un programma in radio quindi lo so fare oggi non lo faccio più ho un regista però quando poi parlo con lui io so di che cosa sto parlando e lui anche ha più rispetto nei miei confronti per questo motivo stessa cosa per i video io so montare i video però ci sono persone e c'è Francesco con cui Francesco Scaramucci che si occupa di montare e di editare tutti i video che lo fa molto meglio di me però quando parliamo delle cose io so magari come montare quella cosa come montare quell'altro perché l'ho fatto per tanti anni quindi tante cose che lungo il percorso ti sembrano mica che palle perché devo imparare a fare sta roba perché alla fine ti torna utile quindi oltre ad Andrea con cui diciamo facciamo tutta la parte di contenuti di scegliamo di sfiamo eccetera devi trovare appunto la persona che abbia anche una sensibilità come la tua perché quando poi tu gli dai in mano comunque un progetto che arriva a tot numero di persone devi essere sicuro che quello che esce rispecchi anche la tua identità o quello che tu stai cercando di trasmettere soprattutto se ci hai messo la faccia quindi con lui abbiamo instaurato questo tipo di rapporto e ci ha creduto fin dal giorno 1 poi c'è Francesco che citavo che si occupa dall'inizio di editare tutti i video e che ringrazio perché ecco l'altra cosa importante sia lui che tutti gli altri ogni cosa non è mai un problema cioè o raga dobbiamo far uscire sta puntata domani o abbiamo il vlog perché poi adesso ho continuato anche con i vlog che però si incassa lo facciamo poi capiamo come sistemarci però non è un problema cioè qualcuno che ti dice che non ti solleva un problema ma si capisce ma ti dà una soluzione è una persona che devi portare avanti per tutta la vita perché sennò è difficile quindi con Francesco editiamo tutte le clip tutti i montaggi eccetera eccetera e poi abbiamo adesso anche un altro montatore perché in modo da poter portare avanti anche tutti gli altri video Francesco si occupa anche dei miei video personali quindi i vari contenuti in giro per il mondo altre cose tra l'altro ho la voce un po' giù perché anche io come te insomma noi ci riusciamo a incrociare oggi ma arriviamo da fusi orari e da mondi e da mondi diversi esatto quindi insomma il periodo è abbastanza intenso e poi un'altra cosa importante quando facciamo la nostra chiacchierata ora spero di non svelare troppi segreti del basement segreti industriali amici dei podcast no ma l'altra cosa importante secondo me è che io sono sempre per condividere queste cose perché tanto io le faccio così perché sono io ma non perché perché le faccio diverso da un altro perché io sono diverso dagli altri quindi chiunque prenderà magari spunto da questa cosa la farà a modo suo non la potrà fare come la faccio io per il semplice motivo che siamo diversi quindi io sono sempre pro a raccontare a condividere delle cose perché in qualche modo ispiri qualcuno a fare una cosa bella e per me è stato fondamentale sentire o ascoltare qualcuno che raccontava qualcosa quindi questo è importante e quindi c'è abbiamo dicevo un altro montatore e poi c'è l'hai citata prima mia sorella Martina sono molto contento perché adesso lei piange se io racconto questa cosa però abbiamo parecchi anni di differenza 12 giusto? ok e per come è un po' stato e per raggiungere certi obiettivi per fare certe cose lungo la strada io sono stato molto concentrato sulle cose che stavo facendo eccetera eccetera e adesso dopo dopo tanti anni riuscire a inglobare anche lei all'interno di questo progetto dato che ha un'ambizione un sogno che si sposa anche con quello che stiamo facendo noi e quindi ritrovarci anche dopo un po' dopo un po' di anni nel periodo in cui lei si è appena laureata eccetera eccetera è forte e quindi con lei mentre facciamo tutte le puntate tipo magari anche adesso lei sta prendendo degli appunti rispetto alle cose che ci stiamo dicendo in modo da poter avere già dopo un piano quando andiamo a riguardare la puntata insieme che poi mandiamo a chi monta a chi sistema a chi sistema tutto e poi sono un'altra cosa che sono contento è essere riuscito a inglobare in squadra anche Lisa che invece magari molti conoscono perché è una persona che lavora con me già in radio si occupa della redazione del mio programma ma dall'inizio praticamente ed è cresciuta insieme a me da che anche lei non parlava faceva solo la redazione io ho sempre cercato di tirarla in mezzo perché reputo che sia una persona molto brava secondo me è sempre poi questione di sensibilità quindi anche parlare al microfono ha il modo giusto di farlo eccetera e siccome già lavoravamo bene insieme in radio gli ho chiesto se voleva venire a darmi una mano anche in questo progetto e quindi questo più o meno è l'assetto poi insieme ad Andrea che ho citato prima ci sono anche degli altri ragazzi che si stanno occupando delle grafiche diciamo è tutto un progetto in divenire per un giorno di poter proseguire con un elenco ancora più ancora più lungo c'è Asbulla che è comunque lo spirito guida ho dimenticato qualcuno ho detto tutto no ci sono ci sono tutta una serie di persone ripeto che anche pian piano stanno entrando nel progetto o che magari hanno girato anche qua ecco l'altra cosa bella è stata poter incontrare altri ragazzi con cui magari abbiamo fatto delle cose un po' più più spot su altri su altri progetti o che sono stati parte integrante del progetto magari all'inizio e con cui magari siamo cresciuti insieme con cui magari poi si prendono anche vie diverse oppure sostanzialmente magari non c'è la forza reale in questo momento per tenere dentro dieci persone però tutto questo è fattibile solo grazie allo sforzo di tutti perché se non ci fosse qualcun altro io per tanti anni sono andato sempre come un treno veloce a fare un sacco di cose a raggiungere anche dei bei risultati in un poco tempo però da solo tu riesci ad andare molto veloce se vuoi andare lontano devi essere con qualcuno quindi è fondamentale avere una squadra poi io lo sai lo sport per me è la più grande metafora della vita e se Michael Jordan per poter vincere ha dovuto capire che doveva affidarsi ai suoi compagni di squadra e giocare con loro erano scarsetti ai compagni sì poi sono diventati forti ma sono diventati forti anche grazie a lui poi qualcuno forte è arrivato a prescindere però è risaputa questa cosa che Michael Jordan comunque fino a che lui faceva tutto da solo e Phil Jackson gli ha detto oh non puoi fare tutto da solo se no non vincerai mai un titolo quella cosa rimane abbastanza importante quindi siete in tanti sì 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 siamo cioè iniziamo a essere speriamo un domani sempre di più però proprio grazie anche un po' allo sforzo collettivo nel senso che diciamo che tutto il discorso basement è ancora molto un investimento nel senso in modo particolare posso chiederti la baracca come va avanti eh allora in questo momento va avanti con con le nostre risorse nel senso con le mie personali che magari arrivano da altri progetti che faccio insomma con le nostre perché in qualche modo volevamo e ci tenevamo che il progetto restasse genuino e autentico quindi lo sforzo è collettivo anche da parte di Albi quindi diciamo noi due stiamo cercando di tenere tutto più o meno in equilibrio ovviamente riconoscendo il giusto però è chiaro che per riuscire a raggiungere questi risultati stiamo tutti performando tanto diciamo così però ci tenevamo che questo spazio e che il basement e che i video restassero abbastanza puliti adesso uso un termine dato che anche tu lavori tanto con i brand io personalmente lavoro tanto con realtà in cui in cui credo con cui condivido dei valori con tutti i progetti lunghi e duraturi perché poi la cosa che ho cercato di fare sempre durante il mio percorso è affiancarmi con dei partner perché poi è questo alla fine è qualcuno che condivide le tue idee i tuoi valori e si fanno dei progetti insieme però lato basement volevo evitare di avere il podcast con la pubblicità sul sul tavolo o iniziare salutando gli amici di qualsiasi vpn del mondo e tutte quelle cose lì che secondo me senza nulla togliere a chi lo fa perché chiaramente ci sono dei motivi c'è sempre bisogno di risorse io personalmente non è che sono ricco e allora investo in sta roba però preferisco diciamo fare così è il tuo spazio sì e tenerlo pulito anche per l'ospite perché poi viene un ospite e si crea una cosa strana cioè io faccio la pubblicità tanto che nessuno degli ospiti viene pagato ci tengo anche a raccontare questa cosa perché molti pensano eh vabbè ma ci sono degli ospiti che vengono che non potrebbero mai essere pagati io ci speravo ma niente tra negli achi che è l'unico che ha voluto una fine no però la maggior parte degli ospiti cioè scusami tutti gli ospiti nessuno prende nessun tipo di compenso proprio perché è per il piacere di stare qui a chiacchierare di fare questo contenuto io su questo piacere non ci posso lucrare non so come dire su questa autenticità non ci posso lucrare e non ci devo lucrare quindi con lo sponsor si creerebbero delle situazioni brutte questo non toglie che però mi piacerebbe fare dei progetti speciali adesso quindi passa dal basement questo resta così però può essere un passa dal basement per un brand o una realtà con cui c'è un bel rapporto che ha un bel progetto dietro e allora a quel punto si fa il ragionamento anche con gli ospiti un passa dal basement che va sui canali di qualche altra realtà che serve a raccontare qualcos'altro quello succederà eventi non eventi cose già abbiamo aperto a questa cosa e già si stanno facendo delle chiacchierate a me il basement mi piacerebbe fare un tour in giro per l'Italia mi piacerebbe portarlo dal vivo con le persone tantissime persone chiedono di poter venire qua dentro e visitarlo qualcuno ha avuto la fortuna per qualche rara occasione di assistere a qualche puntata dal vivo dal vivo io ve lo assicuro è una cosa molto bella e quindi perché questa energia questa atmosfera si respira quindi spero un giorno di poterlo portare in giro dal vivo o di poterlo portare anche in giro per il mondo che è la mia altra ambizione andando appunto spesso in alcune zone come gli Stati Uniti dove c'è grande ispirazione per questa cosa qui quindi mi immagino e spero un giorno di poterlo far andare avanti così e per fare quella cosa magari chiaramente si possono pensare a delle giuste sinergie eccetera però il format di per sé deve restare deve restare così e quindi piuttosto preferisco andare a prendere da altre cose e donarle al basement proprio perché se no secondo me si perderebbe un po' questo spirito di questo genere qui cioè essendo anche io un artista mi metto anche dall'altra parte quindi come la viverei se fosse al contrario questo è diciamo il fatto di potermi immedesimare negli altri comunque questa cosa crea anche un'empatia molto forte con gli ospiti che di solito aiuta poi la chiacchierata ecco quindi un ringraziamento allo sponsor Gianluca Gazzoli oggi ringraziamo Basement che è lo sponsor di Basement a questo punto anzi tra l'altro ci tengo secondo me sono già uscita quando faremo sono già uscita quando faremo questa puntata c'è il merch comprate le tasse è nato il merch del Basement ecco tutte queste piccole cose qua in realtà ci serviranno ad alimentare il progetto così come mi piacerebbe poter fare di tutti i social come ti dicevo prima a me il diverso in realtà non spaventa cerco di capirlo TikTok è diventato una risorsa indispensabile comunque io l'altro giorno citavo io mai credevo che saremmo riusciti ad arrivare primi su Spotify adesso non so ad oggi com'è ma nove giorni consecutivi primi su Spotify tra i top podcast Italia indipendenti come siamo solo con le nostre forze quando comunque dall'altra parte ci sono dei gruppi molto grossi che producono podcast che sono insomma delle grandi aziende e che hanno tutto un altro sistema nonostante questo noi siamo riusciti ad essere primi io non credevo che ci avremmo mai fatta però funziona anche tanto perché è su tutte le piattaforme YouTube funziona tantissimo e sono molto contento YouTube come dicevamo prima è una risorsa in cui io credo tantissimo ed è una grande possibilità di arrivare a tutti in tutto il mondo tant'è che adesso non so se l'avrò già fatto quando uscirà questo video ma sotto titoliamo il video di Vale perché Vale chiaramente iniziano ad esserci degli ospiti internazionali e quindi a quel punto anche lì spero e credo di aver aperto delle porte abbiamo fatto la puntata con Ben Affleck e Matt Damon che è una roba che ancora la gente mi scrive dai Giallo a me puoi dirlo è finto no cazzo è successa davvero quella è già in inglese sottotitolata o comunque chiacchierate in inglese tutto questo apre anche a degli scenari internazionali quindi anche in quel caso lì io spero insomma la roba di Ben Affleck all'interno di un podcast siamo stati i primi a farlo quindi tutte queste cose qua servono a far crescere a far crescere il progetto quindi anche portare tante piccole accortezze in più mi piacerebbe fare delle live di commento ti dicevo tutte le piattaforme sono importanti TikTok è importante l'unica che non ho ancora considerato è Twitch perché è un linguaggio un po' ha un meccanismo che non mi fa impazzire un po' diverso da quello che cerco di fare io nel senso chiedo scusa agli amici di Twitch se guarderanno questa cosa però mentre tutti gli altri social secondo me alimentano la vita Twitch un po' te la toglio cioè ti costringe per funzionare ti costringe a stare sulla piattaforma troppo tempo rispetto a quello invece YouTube io faccio delle cose fuori e uso YouTube per raccontarle incontro persone ti puoi registrare tre puntate in un giorno sì 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 e poi YouTube è l'unico social ad oggi che ti crea una come dire un'affezione reale è la nuova televisione da quel punto di vista ma non solo è più della televisione perché e questo succede anche a te quando la gente ti incontra per strana tu sei il loro amico cioè io non capisco più chi mi ferme conosco davvero magari da anni o sei una persona che mi segue e questa è una cosa bellissima ed è una cosa che metto insieme alla radio perché come la radio ha quest'altro meccanismo chi ti ascolta perché entri nella loro vita non sei su un pulpito inesistente cioè anche oggi la tv per carità ci sono ancora delle cose belle però proprio ieri sera guardavo una cosa e dicevo cacchio però lì c'è proprio tutto ciò che io non sopporto della società di oggi l'hanno messo lì e dico ma com'è possibile in quel programma in quella cosa poi ci sono tanti altri che funzionano e che vanno e che vanno e che vanno bene quindi anche quella roba lì dovrebbero parlarsi tra di loro non dovrebbero cioè una cosa può aiutare l'altra ecco quindi questa cosa è sicuramente è sicuramente importante e quindi è giusto secondo me avere tutte le varie piattaforme con sé ecco multi piattaforma si dice multi multi e quindi a livello di futuro tu ti immagini sì di crescere ma ti immagini anche un domani un basement senza te che intervisti ma con qualcun altro beh allora il discorso che facevo prima in realtà vale anche per questa cosa qui nel senso che il mondo sta cambiando su tante cose quindi anche il fatto che questo stia diventando un cioè ecco la differenza degli altri podcast è che questo non è cioè passa dal basement si chiama così e ci tenevo a chiamarlo così perché passa dal basement cioè è il basement la cosa più più importante e che e che continua a vivere e infatti a differenza di altri di altri podcast forse ti puoi sentire anche più parte di questa cosa perché è un luogo è un luogo e mi fa piacere che la gente mi scriva che vuole venire qua che lo vede come un museo che lo vede come un luogo di culto che qualcuno guarda sono contento e mi spiace allo stesso tempo perché c'è stato un periodo in cui Sara perché all'interno del basement c'è anche Sara ecco questa è una cosa molto importante perché non l'ho citata prima perché non è operativa sul format ma diciamo tutta la parte di gestione di amministrazione di quello che è tutte le cose che faccio lei è fondamentale oltre ad essere fondamentale per me nella vita da un punto di vista spirituale morale e di amore però è proprio mi dà una mano su tantissime cose e all'inizio nella parte del basement c'era anche tutto lo spazio dedicato al suo brand di labo che poi crescendo per forza di cose alcune cose sono cambiate anche perché quando lei faceva qua le sessioni di armocromia molte persone o fidanzati o altro prendevano l'appuntamento per fare la cosa e poi io mi trovavo fuori dal basement perché io non ho mai detto dov'è e non lo dirò mai per un discorso di privacy eccetera eccetera però mi trovavo fuori un sacco di persone che poi venivano e a me figurati mi faceva tanto piacere però insomma per dare anche un po' la dimensione che questa cosa è cresciuta tanto e quindi la gente si sente sempre più parte di questa cosa quindi il basement in qualche modo da luogo fisico diventa che un luogo fisico può portare dentro un tot di persone un luogo digitale virtuale un media può portare un sacco di persone quindi rispondendo alla tua domanda in questo momento c'è pasta dal basement però la cosa bella è anche crescere insieme quindi magari un domani ci si è pasta dal basement magari ci sarà un altro format che giriamo qua abbiamo messo una cucina magari facciamo una cosa da cucina c'è un altro angolo sul gaming cioè con magari delle altre persone che sposeranno e che sposano secondo noi questa mentalità che avranno delle capacità e che magari cresceranno cresceranno insieme ecco questa è una cosa è una cosa che mi farebbe sicuramente piacere proprio perché poi alla fine c'è spazio tra virgolette per fare tante di queste di queste cose belle essere liberi poi una cosa funziona cioè per arrivare al basement ho dovuto sbagliare delle altre cose se non sarebbe mai venuto questo progetto come se diventassi un linus del basement sì diciamo che la parte di dire lo cito in quanto credo anche direttore artistico sicuramente poi il modello suo di quello che succede a Radio DJ comunque è stato per me sempre una grandissima ispirazione come è stato intervistarlo? allora quella cosa mi ha fatto particolarmente effetto perché mi ha fatto piacere perché l'ho invitato a casa mia e lui ha accettato e non era una cosa assolutamente scontata ed è nota anche insomma mi fa piacere perché a Radio DJ c'è tanto questo concetto di famiglia che gli ascoltatori avvertono e che in tanti casi è reale e quindi il fatto che lui soprattutto era anche l'inizio del format erano i primi mesi ci sono già successe delle cose importanti però non era comunque scontato ed è stato bello perché è una chiacchierata che avrei sempre voluto fare e che non ero mai riuscito a fare perché all'interno della radio delle sue giornate delle mie giornate eccetera eccetera non c'è mai un momento di incontro quindi io ero davvero Gianluca che faceva quelle domande e che ha sempre come dire che avrebbe sempre voluto fare un sacco di curiosità e sono contento che la gente questa cosa l'abbia avvertita e che sia piaciuta perché è un'altra cosa e quando magari viene un ospite di un certo tipo hai sempre paura di dire cacchio io non voglio come nella vita non voglio sprecare niente non voglio sprecare un'occasione di questo genere quindi con lui mi ha fatto piacere anche perché lungo il percorso lui è stata sicuramente una persona importante perché tante cose io le facevo pensando boh chissà cosa pensa e ancora non lo conoscevo chissà pensa lì non so di questa cosa cioè questa cosa mi aiuterà poi arrivare un domani a Radio DJ che in quel momento vedevo come l'NBA e quindi poter chiacchierare qui è una cosa che mi ha fatto tanto piacere ecco sì secondo me è bello perché quando noi facciamo cose online c'è sempre un po' di competizione e allora vieni sempre visto come quello contro i media tradizionali o di qui alla fine quello che secondo me si deve far passare è che porca vacca siamo un po' tutti sulla stessa barca cioè il tema non è chi fa che cosa dove ma il tema è chi fa delle cose belle cioè cerchiamo di fare tutti quanti ovunque le facciamo delle cose interessanti e quindi il fatto questo è verissimo ed è hai detto una cosa verissima anche perché secondo me tutte queste cose possono convivere io non è che facendo questo dico allora non voglio fare più il resto eccetera secondo me possono convivere anche perché in molti casi parlano a target diversi poi sicuramente ci sono periodi in cui una cosa funziona di più una cosa funziona una cosa funziona di meno riuscire a fare tutte queste cose io sto un po' nel mezzo nel senso che sono della generazione un po' in mezzo quindi io sono cresciuto io questa cosa la dico sempre cioè sono cresciuto sognando di fare un lavoro che non esiste più che è il vj di mtv per dire che quando è arrivata la mia età non esisteva più l'mtv che conosciamo che conoscevamo quel ruolo eccetera eccetera e faccio un lavoro e delle cose che non esistevano cioè questa cosa era impensabile anni fa i video su youtube erano impensabili lavorare con i social era impensabile quindi è chiaro che questa cosa però il fatto di essere in mezzo e di aver e di riuscire a fare queste cose lo devo al fatto che sono cresciuto facendo queste cose cioè non è che dici ecco una cosa che non funziona è ok sei molto forte su youtube allora ti metto a fare una cosa in televisione o allora ti porto in radio o sei forte in radio devi usare i social ti porto a fare tiktok no cioè tu devi sono tutti linguaggi diversi su cui tu devi essere preparato su cui devi devi studiare e il fatto di nel mio caso aver fatto diciamo la gavetta chiamiamola così su tutte queste cose insieme di averle sempre portate avanti in parallelo mi permette oggi di riuscire diciamo a essere in tutte le cose e comunque credibile quindi ad avere un amico come te che magari è fortissimo sul mondo di youtube che è cresciuto con quella roba lì di una generazione di un'età anche diversa ma anche Carlo Conti che è una persona che stimo che anzi mi ha insegnato anche tanto quando abbiamo capitato di lavorare insieme e che comunque arriva da un altro mondo che però magari mi vede qui mi vede credibile e allora dice magari facciamo questa cosa o qualcun altro eccetera eccetera poi c'è lo sport cioè il fatto di ecco la credibilità cioè in un mondo e in un paese che adesso sta facendo di tutto per farti credere che la credibilità non abbia un senso dove ti vogliono far credere che tutto vale tutto che uno vale uno ma quello è un altro discorso cioè non è così cioè non puoi oggi fare una cosa dove tra virgolette ti sputtani e il giorno dopo farne un'altra che è completamente il contrario di quello che hai detto il giorno prima non può cioè la gente non è scema la gente questa roba la capisce e alla lunga verrà sempre fuori la persona che sei davvero perché è una maratona non sono i 100 metri e chi capisce questa cosa secondo me io ci tengo anche gli ospiti che invito cioè per mantenere una credibilità io non voglio che hai citato Valentino Rossi che è incredibile che sia successa questa cosa io sono molto contento ed è venuta benissimo e mi fa stra piacere però non voglio mai che lui domani veda una puntata del basement e dica cazzo ma c'è quello lì si è seduto nello stesso posto voglio che dica magari sì questo qui io non lo conosco però cacchio è forte questa cosa sono contento che sia seduto dove mi sono seduto io e se invece tu inviti tutti solo perché vuoi fare le views vuoi fare i contenuti e vuoi fare i numeri quella roba li perde no la cosa affascinante è proprio questa cioè unire vari mondi e tu riesci a farlo bene sia perché conosci le persone sia perché sei fisicamente cioè io quando devo parlare di te non so mai se definirti io ti definisco sempre youtuber perché io ti ho conosciuto guardando i video su youtube molta gente ti ha conosciuto ascoltandoti in radio molta gente ti ha ascoltato ti ha visto in televisione molta gente ti ha visto sui social mi piace definirti anche un cyborg sì per certi versi poi cerchiamo di capirlo è vero come hai raccontato nel libro però cavolo sei proprio riuscito a unire vari mondi beh allora anche in questo caso è un po' mi fa piacere intanto che tu abbia questa questa diciamo questo percepito è successo anche un po' quasi di necessità virtù nel senso che per riuscire a a farmi conoscere a quando nessuno ci credeva quando nessuno mi aveva la possibilità ho dovuto provare diverse strade e portarle avanti tutte perché secondo me tutte avevano un senso e soprattutto perché io stesso ho bisogno di alimentarmi non riesco a fare una cosa sola dopo un po' magari mi annoio bisogno sempre di cercare nuovi stimoli di nuove cose e quindi per forza di cose mi sono ritrovato a fare più cose questa cosa anni fa era un problema cioè quando ho iniziato magari intorno al 2011 2012 cioè il fatto che tu facevi più cose che qualcuno non riusciva a identificarti e quindi diceva ah ma quindi se fai video su youtube sei un youtuber no però guarda faccio anche la radio ah ma allora sei un conduttore radiofonico sì però presento anche gli eventi sto sul palco ah ma allora fai il presentato era un problema cioè l'Italia sembrava l'unico paese in cui saper fare più cose era un problema invece che essere una risorsa quando magari iniziavi a vedere fuori gli Stati Uniti insomma io do sempre un occhio a quello che succede fuori e era già una cosa molto più accettata il fatto di essere multitasking poi passano gli anni succedono tante cose e oggi se tu non sai fare più cose sei morto non esisti e anche tutti coloro che negli anni si sono eretti su un pulpito di una carriera magari decennale di massimo rispetto di una grande però negli anni non hanno mai voluto mettersi in gioco no i social mi fanno cagare no TikTok è una merda non hanno mai accolto il nuovo adesso sono in grande difficoltà e non esistono più quindi hai voglia demonizzare perché tu puoi demonizzare il cambiamento quanto vuoi ma quella cosa c'è e sta succedendo quindi devi capire come portarla nel tuo come trovare la chiave per essere per essere te stesso e quindi il fatto di come dire essere multitasking oggi è indispensabile se vuoi fare la musica non basta saper fare la musica devi sapere come come montare un video come si produce una canzone come impostare il marketing della tua campagna come lanciarlo devi pensare a mille cose se vuoi fare un podcast devi sapere come funzionano tutti i social se vuoi essere uno storytelling io scrivo storytelling scrivo storyteller su Instagram quando ancora non si usava questa parola adesso è diventata inflazionata però se tu vuoi raccontare delle storie devi conoscere i vari social le varie cose i vari mondi e quindi è diventato indispensabile però ti dico di necessità virtù perché all'inizio non è che io volevo farlo cioè io all'inizio mi sarei voluto svegliare il giorno dopo ed essere già al top no? oh fantà mi sveglio vedevo tutti quelli che da un giorno io ero lì che mi sbattevo che mi alzavo alle 4 del mattino per andare a fare la radio alle 6 per poter avere il tempo di andare a lavorare in agenzia viaggi che era l'unica cosa che mi faceva accampare e avere il tempo allo stesso tempo il pomeriggio di montare i miei video sperando che qualcuno su youtube li avrebbe poi visti mentre vedevo che qualcuno faceva un video con una gara di rutti e prendeva un milione di followers e io dicevo cazzo ma perché mi devo fare tutto questo sbattimento oppure vedevo uno che per un altro video per un'altra cosa esplodeva dall'oggi al domani la maggior parte di questi non esiste più oggi perché non ha mai non ha avuto la capacità di portare avanti quello e quindi alla fine io ringrazio il fatto di non essere mai esploso esploso realmente forse non sono esploso spero di non essere esploso mai da un giorno con l'altro perché mi ha permesso di imparare dei mestieri di costruirmi una strada e di riuscire in qualche modo ad avere qualcosa da dire quando sarebbe stato poi il mio il mio momento che spero che arrivi o che sia adesso non lo so che in ogni caso quando ci sarà o quando c'è o io comunque in questi anni ho sempre un qualcosa che ho imparato da quando andavo a presentare gli eventi alla sagra della salsiccia arrivavo io mi montavo il palco io salivo su lo smontavo ci mancavo che mi facevo gli applausi quando avevo finito però quella roba lì è stata fondamentale quindi a tanti che si fanno oggi degli sbattimenti eccetera cioè dico quello che mi sarei detto io cioè vai tranquillo perché tutto serve cioè oggi mi accorgo di quanti puntini lungo la strada di cose che mi sembravano inutili invece mi tornano anche lo stesso rapporto con le persone cioè il basement sembra che tutto quello che ho fatto oggi cioè che ho fatto in passato tutto ciò che ho fatto in passato è è qualcosa sai perché ho ripetuto questa cosa? perché ho pensato se una clip su tiktok io almeno ce l'ho poi no scherzo però questo è perché tu pensi sempre alle cose che poi succedono no? tiktok ci sta distruggendo il cervello sì adesso stavo scherzando però in realtà quello che hai detto è appena vero però cioè tutto ciò che pensavo che fosse inutile invece tutto ciò che ho fatto in passato sembra che mi abbia portato qui a oggi al basement perché anche gli amici che sono venuti tante volte sono persone o artisti o personaggi con cui io sette anni fa mi sono comportato bene e molti lo riconoscono questa cosa cioè il bene torna tutto nella vita torna il male così come torna il bene quindi magari in qualche modo loro hanno visto in me qualcosa o c'è stata una stima per cui in questi anni ci siamo seguiti a vicenda o in qualche modo hanno riconosciuto in me qualcosa anni fa per cui io magari sono andato a quell'evento che non ci volevo andare ho accettato sì a quella cosa anche se la stavo facendo gratis e oggi mi torna diciamo utile o comunque c'è un ritorno e quindi è bello vedere come tante cose poi si si uniscono e trovino cioè veramente la settimana in mistica che tu c'hai tutti i puntini li devi unire e poi viene fuori un disegno e il disegno ancora lo sto lo sto vedendo e come diceva Steve Jobs non puoi connettere i puntini guardando avanti puoi solo connetterli guardando indietro bello questa non la è nel discorso quello a Stanford ah ok quello famoso che poi finisce stay angry stay foolish che tutti si ricordano a Stanford c'è tutta quella parte lì no è bellissimo il discorso e quindi ti possiamo definire un raccontatore di storie alla fine in generale sì che sia la mia io io racconto la mia tutti i giorni e mentre racconto la mia racconto anche quella delle persone però raccontare la tua storia personale che hai fatto nel libro che non avevi mai raccontato in pubblico sì come è stato quella è stata una presa di coscienza forte perché proprio per questo discorso che ti dicevo in cui mi piace comunque condividere le cose e quindi io ho sempre condiviso tutto da quando ho iniziato questo percorso cioè i momenti belli i momenti brutti infatti secondo me la cosa bella è che c'è tanta gente che mi segue veramente da quel 2011 2012 proprio perché si è affezionata e vede in me l'amico è una cosa di cui sono molto contento però alla fine stava facendo io si dicevo cioè come come dire un giorno nel 2014 lascio il mio contratto a tempo indeterminato in un lavoro per seguire i miei sogni proprio perché a un certo punto io dicevo cavolo vado sempre in giro a dire seguite i vostri sogni rischiate o comunque ne vale la pena eccetera eccetera e poi io resto ancorato a questa cosa tu lavoravi in agenzia di viaggi lavoravo in agenzia di viaggi ho fatto tantissime cose ho fatto il cameriere ho fatto il tornitore ho fatto l'animatore nei villaggi turistici e poi ero arrivato a lavorare in un'agenzia di viaggi che mi permetteva di lavorare con la mia passione che erano i viaggi ero appena tornato facevo l'animazione nei villaggi lavoravo anche cioè facevo ancora finivo ancora la quinta superiore e quindi avevo iniziato questo percorso però nel mentre nel mentre io avevo avuto sempre il sogno di fare io vi dicevo volevo fare il presentatore come ti dicevo prima e pian piano il tempo passava e mi accorgevo che non non stava succedendo niente e io mandavo le mie come dire avevo il sogno della radio di radio dj mandavo le mie demo a chiunque rompevo le palle a chiunque ma non mi cagava nessuno poi quando facevo la chiusura dell'agenzia stavo lì la mezz'oretta a pulire con la scopa e tutto quanto e guardavo i video su youtube e c'erano i primi e vedevo cazzo che questi su youtube riuscivano ad arrivare a un sacco di persone e quindi ho detto devo trovare il modo per farmi notare e ho detto proviamo su youtube raccontiamo i viaggi e ho iniziato raccontando le mie passioni quindi appunto prima i viaggi e poi lo sport il basket e tante altre cose andate a recuperarveli perché secondo me sono ancora tanti molto validi io avevo questa frustrazione però in quel periodo dove comunque dato che continuavo a fare tutti gli altri lavori non riuscivo ad avere una costanza su youtube e su youtube sai bene che se tu non hai una costanza di contenuti non riesci a crescere quindi tutti mi dicevano grande che bello bellissimo ma perché il tuo canale non ha centomila iscritti e quindi quelle erano tutte pugnalate o anche quando ero in radio mi dicevano bravissimo dovresti andare a re dj perché non sei occhio quando fate sti complimenti perché è bellissimo ma sono sempre delle pugnalate e quindi per questo che sono contento che anche col basement infatti l'ho messo lì perché ci tengo un sacco il bottone dei 100 mila perché era un conto che avevo in sospeso con youtube perché io ero partito con quella roba lì ma non avevo mai avuto modo come quelli che si laureano da grandi perché in quel periodo magari non hanno potuto fare la studiare perché erano concentrati dove avevano iniziato a lavorare eccetera per me è quel tipo di concetto lì è una piccola rivincita che mi sono preso perché credevo di potercela fare e quindi quella roba lì mi ha dato una possibilità e quindi io poi continuavo a spedire tutte le mie varie cose ma le portavo come dire in parallelo quindi cercavo di farmi conoscere in radio e facevo i video radio, video, radio, video la radio mi insegnava un mestiere ma non mi creava tanto pubblico all'epoca perché comunque erano inizio radio un po' più piccole ho target differenti eccetera invece il web mi stava creando un pubblico e quindi pian piano diciamo le cose sono iniziate a crescere anche se anche lì non è che bastava avere dei risultati anche per la radio io ho iniziato in una web radio che è stato un vero e proprio laboratorio creativo che si chiamava Radio Malibum mi fa piacere perché ci sono molti ancora che se lo ricordano perché era una street radio ti parlo veramente del 2011 quindi è stata la prima eravamo in corso di porta ticinese avevamo una vetrina davanti avevamo una struttura messa a disposizione dallo sponsor dove sembrava di essere una radio vera ma non lo eravamo però noi lo credevamo e quindi dentro c'era veramente tanti ragazzi o alcuni magari non tantissimi però tanti sono passati di lì ma molti di oggi che vedete in giro mi fa piacere che siamo partiti da lì è stata una piccolissima cantera era durata un anno due anni però a me mi ha fatto capire che era quello che volevo fare nella vita e a quel tempo c'era una collaborazione con Radio Number One che era una radio di Bergamo di tutto il nord Italia una superstation si chiama e quindi quando ho visto che c'era sta cosa ho detto cacchio forse riesco ad avere un contatto cerco di provare perché questa è un'altra cosa che mi chiedono sempre ma come si fa a lavorare in radio ma come è l'ambiente più chiuso che io conosca è l'ambiente più chiuso che io conosca quindi quando io vedo che c'è Radio Number One penso di avere un'opportunità per farmi conoscere allora l'allora direttore Luca Viscardi che comunque ringrazierò per sempre mi ha detto guarda a me piace quello che fai ho visto perché io mandavo la demo sia con la radio che con il video perché secondo me oggi un'altra cosa che dico a chi vuole fare la radio dipende qual è la tua ambizione non puoi fare solo la radio devi fare altre cose devi dimostrare anche di riuscire a fare altre cose perché non basta più fare anche alle radio non basta fare la radio e basta quindi ho questa possibilità e in realtà non ce l'ho perché lui mi dice vorrei ma non posso inserirti da nessuna parte io faccio ma posso venire in radio giusto a vedere come funziona non sapevo come fosse una radio vera io facevo quella web radio che per me in quel momento era la cosa più importante del mondo cioè io la vivevo come se stessi facendo la notte degli Oscar e questa è stata una cosa che mi è stata utile sempre cioè io ogni cosa che faccio la vivo come se fosse la notte degli Oscar che sia una cazzata che vedono una persona che sia una cosa che vedono milioni di persone la vivo sempre così e questa è una roba che mi ha che mi ha sempre tanto aiutato in quel periodo io ero convinto di fare la notte degli Oscar in realtà la vedeva solo mia mamma e Sara che avevo conosciuto in quel periodo e per fare il figo gli dicevo guarda che sono in una radio guarda questa roba qui e quando arrivo a number one lui mi dice guarda sì se vuoi però senza alcuna promessa vieni va bene io ho fatto tre mesi no forse due mesi comunque ho fatto due mesi ad andar lì tutti i giorni braccia concerte e a vedere quello che succedeva a vedere quello che succedeva tutti che dicevano ma chi cazzo è questo ma perché è qui io ero lì che guardavo però poi parla con uno parla con un altro viene fuori che io già avevo facevo l'animatore avevo fatto l'animatore nei villaggi che è stata un'esperienza bellissima anche lì mi ha fatto capire che io mi piaceva stare con la gente stare sul palco eccetera che mi ha insegnato tantissimo e poi quindi vengono fuori queste cose mi propongono di fare il iniziare mi buttano sugli eventi e quindi per un anno intero io giro praticamente tutto tutta la bergamasca come si dice in questi casi veramente dalla sagra all'evento un po' più importante dove però a quel punto dovevi far tutto quindi dicevo prima arrivi monti tu il palco fai tu tutta la parte di intrattenimento infatti quando oggi mi dicono ma Gianluca ma non hai paura parlare su un palco davanti a 40.000 persone in televisione o in radio con i milioni di persone faccio no cazzo cioè io avevo paura quando c'avevo avanti tre persone che mi guardavano col gelato e dicono ah dai beh dai adesso facci divertire chi è questo che cazzo vuole adesso invece bene o male le persone sono lì per ascoltarmi o perché hanno voglia di divertirsi e mi gaze basta questa situazione non sono non sono spaventato sono felice di poterla fare e gasato e quindi tutto quel periodo lì mi ha permesso in qualche modo di fare anche lì la gavetta di imparare a stare sul palco di riuscire a confrontarmi con le persone di entrare in contatto con le persone e fino a che poi continuavo comunque con i video facevo comunque girare i video li mandavo sempre a radio dj perché il mio sogno era sempre radio dj e non mi cagavano mai fino a che invece una volta io stavo nel frattempo continuavo ad andare anche in agenzia viaggi e durante questo periodo io avevo mandato io credo di aver mandato questi cd anche a chi si occupava delle pulizie di radio dj o di mtv all'epoca o della televisione perché chiunque vedevo su facebook che lavorava io gli mandavo cose ed è per questo che oggi cd con dentro la mia demo io che parlo in radio e alcuni dei miei video che in quel momento credevo fossero più rappresentativi tendenzialmente non mi rispondeva nessuno ma quando mi rispondeva qualcuno la mia giornata cambiava la mia vita io avevo la spinta ma anche che mi rispondevano guarda Gianluca bello ma non ci serve io comunque avevo quella risposta lì mi dava il boost per andare avanti un altro mese ed è per questo che oggi io rispondo a tutti cioè a tutti adesso quelli che riesco io rispondo veramente sempre anche solo con una battuta con una roba perché so che cosa vuol dire ricevere quella risposta però assurda sta cosa di mandare fisicamente anziché il file no mandavo il cd perché a parte che comunque stiamo parlando di dieci anni fa ed era comunque un pochino diverso mandavo il cd o la chiavetta proprio perché riuscivo anche a scriverci una cosa sopra perché comunque qualcuno la trovava la mettevo nei bagni anche perché era una cosa che uno arrivava e nel bagno diceva perché c'è questa cosa come i numeri in autogrill per l'erotismo tipo un hacker con i virus esatto una cosa di questo genere non mettete chiavette usb nei vostri computer se non sapete da dove arrivano mettete fiori nei vostri cannoni ma non le chiavette usb con i file con i virus potevi hackerare una radio capito avrei potuto farlo però devo dire che sono molto contento perché tra tutte queste cose poi tra tante persone che non mi hanno risposto io ovviamente mi ricordo di tutti quelli che non mi hanno risposto o che mi hanno risposto male che oggi invece mi dicono sei un grande Gianluca io mi ricordo tutti però mi risponde una volta sto andando in agenzia e all'epoca in realtà che cosa succede dopo che ho fatto questi eventi c'è finalmente la possibilità di fare di avere un programma al mattino su su radio number one ok ok però almeno mi dicono guarda Gianluca vorremmo adesso passami il termine un po' a svecchiare la radio perché comunque era una radio che c'era da tanti anni con speaker anche storici da cui ripeto ho imparato tanto però in quel momento avevo 22 anni 23 quindi era un po' a svecchiare la radio però l'unica possibilità guarda è alle 6 del mattino sì subito cioè non è che ci pensiamo una roba del genere sì subito e quindi quel periodo lì è stato molto forte infatti ricordo il 2015 come l'anno più importante della mia vita proprio perché è stato l'anno in cui poi decido di lasciare anzi no lo decido l'anno dopo quindi quell'anno io continuo a lavorare in agenzia viaggi perché comunque sì Gianluca viene a lavorare alle 6 del mattino sì Gianluca fai i video fai le robe ma non prendevo niente quindi ho praticamente niente gli eventi prendevo pochissimo altra cosa che conservo ancora io ho il ho il foglio con tutti l'elenco che mi faceva degli appunti dei pagamenti che dovevo ricevere in quel periodo quindi io sapevo che quella sera magari dovevo andare a questo evento a presentare in questa piazza e prendevo 100 euro e dovevo andare però alle 6 col camion a ritirare la roba a montare il palco a salire a presentare andare via e verso le 4 di notte andavo a riportare il furgone a casa di Mirko che si occupava di gestire tutti a Brescia quindi dovevo fare anche dei giri e tornavo a casa alle 6 di solito e prendevo 100 euro e io adesso ce li ho tutti lì perché è il confronto con quello che prendo oggi e sono molto contento però è tutta roba che poi io conservo perché poi ti motiva e ti fa rendere conto e non ti fa mai dimenticare da dove sei partito quello che stai facendo quindi è una trottola tra Milano Brescia Bergamo infatti in quel periodo mi alzavo alle 4 andavo a fare questo andavo a fare questo programma in radio che era Bergamo però tante volte cosa succedeva e questo Martino probabilmente se lo ricorda che io mi avevo l'ansia non di svegliarmi non dormivo ero stanco mi svegliavo tante volte alle 3 di notte convinto che fossero già le 4 le 5 che fossi in ritardo perché ero io che facevo il primo programma in radio e quindi uscivo e poi quando ero in strada mi accorgevo che invece non erano ancora non era l'ora di giro quindi mi fermavo e dormivo nei parcheggi una volta mi sono addormentato in piedi sulla colonna del box così appoggiato alla colonna quando mi ero reso conto che avevo ancora un'ora di tempo però in mezzo in questo tram tram una mattina però cosa succede quando ritorno dalla radio e vado a questa cosa l'avevo raccontata forse anche nel libro e vado a in agenzia viaggi c'era una canzone che ricordo benissimo che era di giovanotti che era gli immortali non so perché quella canzone lì inizio a piangere da solo in macchina ma da solo e non l'avevo mai fatto non mi era mai successo perché continuavo a dire boh ma servirà tutta questa roba cioè sto facendo tutto questo sbattimento ma boh mi porterà davvero da qualche parte servirà qualcosa e e quella però è stata una delle pochissime volte poi mi sono fermato tutto a posto ripreso ad andare però è stata una delle pochissime volte che ho guardato in basso io dico guardare in basso perché tutta questa roba io la vedo sempre come una scalata neanche come un un filo cioè come un funambolo che deve passare da un palazzo ad un altro e deve camminare su un filo un filo come quello che doveva andare sulle due torri gemelle all'epoca tu sei su questo filo però tu devi devi sempre guardare l'altro lato dove deve l'altro capo del filo del cavo dove stai andando perché se tu guardi giù quindi guardi guardi sotto tu in realtà quindi vedi questa altezza incredibile vedi vedi tutte le infinite possibilità che hai di 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 sbagliare perché è veramente la possibilità di farcela se tu ti concentri sei razionale è veramente una percentuale bassissima quindi quando tu guardi il basso guardi tutte quelle che hai di non farcela quindi cadi per forza se tu guardi le possibilità che hai di sbagliare cadi e quindi cadi e non arrivi alla fine se invece tu guardi sempre l'obiettivo che sta dall'altra parte del cavo quindi la fine cioè la fine dove tu vuoi arrivare il tuo obiettivo diciamo c'è più probabilità di farcela diciamo una cosa di questo genere ed è per questo che se oggi riguardo indietro dico cacchio però ho fatto quella roba lì ma oggi la riguardi con una razionalità diversa in quel momento tu sei talmente accecato tra virgolette dalla tua dal tuo focus e da tutto quanto che tu vuoi andare cioè tu vedi solo il tuo obiettivo vedi solo quello che vuoi che vuoi raggiungere quindi in quelle giornate diciamo molto intense io le ho sempre raccontate queste cose ed è per questo che mi sono reso conto che anche tutti questi momenti quello in cui decido di lasciare il lavoro quello in cui non mi prendono a fare una cosa a cui io tenevo quello in cui sono in difficoltà non so che cosa fare li ho sempre più o meno condivisi poi ho detto cacchio però io non ho condiviso la cosa che forse più mi ha segnato nella vita da quando ero piccolo e allora ho preso diciamo un po' coscienza di questa cosa che non avevo mai raccontato a nessuno e ho deciso che forse era arrivato il momento di raccontarla e ho scritto scosse che è il libro che citavi poco fa dove racconti del fatto che tu tuttora hai qua essenzialmente un defibrillatore io vivo che un po' fa il contrario di quello che fa un pacemaker esatto bravo è esattamente il funzionamento contrario nel senso che quando il mio cuore batte troppo forte troppo troppo c'è un limite il defibrillatore parte mi dà una scarica fortissima che mi butta per terra che è quella stessa scarica che si vede nei film no? quella del libera 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 e quella quella scarica lì è parecchio strong e mi è anche successo diverse volte negli anni però era tutta una cosa che non avevo mai voluto raccontare perché per più motivi uno perché se non la racconti non esiste e quindi la so solo io due perché non volevo che qualcuno poi si iniziasse a preoccupare per me quindi no Giallo dai sei tutto a posto no vai piano che se no sai che poi no che e poi terzo c'è anche un terzo motivo non volevo dato poi la strada che ho intrapreso che qualcuno pensasse che io la raccontassi per far pena ok chiaro e quindi ho detto sempre devo prima dimostrare delle cose da solo poi quando sarà il momento lo racconterò perché ha senso come io condivido delle cose perché il fatto di rappresentare qualcosa per qualcuno o di ispirare qualcuno è la cosa che più mi piace anche raccontando questa cosa secondo me può essere utile a tante persone cioè io stesso oggi ti dico se avessi avuto qualcuno magari che mi avesse detto all'epoca guarda che potrai comunque fare delle cose anzi tutto quello che ti sta succedendo ti farà fare delle cose molto più grandi di quelle che pensavi prima probabilmente mi avrebbe aiutato perché io tutti i primi anni di questa roba l'ho vissuta malissimo e altra cosa che ho scoperto raccontando questo libro è che tutti l'avevano malissimo soprattutto quando le persone accadono accade in maniera più grande a me la faccio breve perché poi e se vi va c'è il libro che in realtà è uscito qualche anno fa quando giocavo a basket nelle partite più importanti o comunque quelle dove c'era qualcosa di particolare il mio cuore a un certo punto impazziva quindi lo stress fisico unito allo stress emotivo faceva schizzare il mio cuore alle stelle tanto che io praticamente svenivo ma in realtà ero comunque vigile uscivo fuori dal campo e poi rientravo perché all'epoca per un anno intero non si sapeva quello che io avessi non si riusciva a dimostrare perché poi facevo test prove da sforzo di tutto di più tu facevi le visite mediche e mi dicevano stai bene guarda che sarà stress guarda ho 15 anni non è che posso avere stress ma la crescita e quindi poi io era quello che volevo sentirmi dire perché io volevo continuare a giocare a basket quindi continuavo a giocare fino a che un dottore cambiando squadra salendo di livello si impunta e mi dice guarda se tu non avessi niente non ti verrebbe niente allora mi mettono un alter che è questo strumento che serve a misurare nelle 24 ore di solito il tuo battito cardiaco che avevo già messo nella vita di tutti i giorni ma io nella vita di tutti i giorni stavo bene durante una partita quindi c'è questa partita che ricorderò per sempre in cui mi imbragano l'arbitro dice va bene mi mettono questo alter io gioco c'era anche tutta la mia famiglia sugli spalti perché da una parte non volevano che stessi male dall'altra volevano che stessi male perché almeno io potevo misurare 15 avevo 15 anni era il 2003 più o meno me lo ricordo perché è anche l'anno in cui Lebron James ha iniziato a giocare in NBA e quindi io stavo quella partita lì poi effettivamente sto male e quindi a quel punto il giorno dopo il dottore chiama subito e dice fermatelo perché a me succedeva che il mio cuore si fermava e poi riprendeva a battere ed è una cosa che ti succede una volta sola nella vita perché di solito ci resti quindi era assurdo che io per un anno intero addirittura continuavo me lo facevo venire due o tre volte a partita e quindi a quel punto lì non si poteva più rischiare ho fatto tutta una serie di esami di controlli di ablazioni per chi conosce per farla semplice il mio cuore a un certo punto fa tipo cortocircuito e quindi ci sono queste ablazioni che ti infilano delle sonde non da dove pensate voi ma da un'altra dal linguine e arrivano al cuore e cercano di di bruciare il nervetto che ti fa cortocircuito la semplifico che poi le cose teccate d'altronde piacciono però in quel caso lì il cuore tutte le volte dato che mi veniva grazie anche a uno stress emotivo non riusciva a scattare quindi loro non uscivano a individuare il problema l'unica soluzione era mettere questo defibrillatore che però voleva dire avere una cosa parecchio grossa sotto il petto fare diversi interventi non poter più fare tutta una serie di cose tra cui giocare a basket a livello agonistico che era la cosa che più mi aveva distrutto in quel momento e avere una cosa diversa dagli altri che a 15 anni in cui siamo in una fase un po' particolare può essere già un problema quindi io in tutti gli anni successivi non ho più voluto avere niente a che fare col basket cioè mi ricordo i miei allenatori la mia squadra no ma vieni dai allenaci no io cazzo non posso guardare io devo essere in campo giocare e fare non so se sono magne di protagonismo ma io devo giocare non riuscivo a vedere gli altri giocare e quindi vederli mi faceva troppo soffrire smesso di seguire l'NBA di seguire il basket per 5 anni abbondanti ma nel frattempo io continuavo a sfidare questo defibrillatore dicendo che non avevo niente quindi facevo apposta fare delle cose che poi mi avrebbero portato dei problemi fino a far partire questo defibrillatore che durante io ho fatto un'altra cosa che non si poteva fare falsificavo i certificati medici chiedo scusa a tutti i dottori che ho però avevo talmente tanta voglia di fare questa cosa che per me era indispensabile e quindi delle volte mi dava questa scossa io però cadevo per terra la prima volta mi ha portato degli attacchi di panico per un anno intero perché avevo paura che questa cosa mi venisse anche mentre correvo a prendere il treno o mentre facevi chissà che cosa e quindi ho avuto un po' di anni parecchi complicati e mi ha fatto impressione quando ho condiviso questa cosa del libro e quindi quando ho raccontato per la prima volta nel 2021 di avere questa di avere questa cosa che è una ritmia ventricolare e maligna si chiama così poi tecnicamente che la gente mi scriveva ah ma allora ecco perché sei così ah ma allora ecco perché fai così cioè io ci ho messo 33 anni a dare un senso a tutto quello che mi è successo ho dovuto scrivere un libro per capire che tutte le cose che mi erano di ostacolo in quel periodo quindi tutto quello che in quel momento mi faceva stare male in realtà era è stato tutto ciò che poi mi ha fatto diventare quello che sono oggi cioè quella sensibilità che mi fregava quando io giocavo a basket o quando facevo delle partite di un certo tipo il mio modo di vivere anche con foga le cose è tutto ciò che oggi mi ha permesso la sensibilità mi permette di arrivare alle persone di fare queste chiacchierate di avere sempre magari un rapporto particolare con le persone la foga mi ha permesso di avere determinazione in tutto quel percorso in tutto quello sbattimento che ti ho raccontato prima tanti altri fattori che in quel momento mi sembrava tutto ciò che mi aveva cioè il basket che era la cosa che mi faceva soffrire perché non potevo farla è diventata una delle mie passioni e che racconto e che mai credevo che poi io avrei giocato uno contro uno col giocatore più forte del pianeta è successo e tutto ciò che prima pensavo il libro poi secondo me è andato anche molto bene proprio perché poi ognuno si è riconosciuto per altre cose oltre ad aver scoperto che tante persone purtroppo hanno questa cosa qui ma ce ne sono tante che hanno io l'ho chiamato scosse perché io ho delle scosse ma ognuno ha le sue scosse cioè magari non sono queste sono altri ostacoli che però ti servono infatti il libro è strutturato c'hai ogni capitolo racconto una cosa un po' forte che mi è successa e che e però come quella cosa in realtà anni dopo ho scoperto essermi essermi utile e quindi l'aver condiviso e la condivisione positiva cosa in cui io credo moltissimo è ritornata di nuovo molto utile nel libro insieme a tante persone poi quel libro ha anche aperto una raccolta fondi proprio qualche giorno fa è stato donato un altro defibrillatore alle scuole poi si è aperto un mondo cioè io annuncio questa cosa racconto questa cosa non ho mai raccontato per una vita ho creduto di essere l'unico giovane ad avere questa cosa tanto che quando ti mandano questo apparecchio a casa poi quando il come dire ti oltre ad avere questo apparecchio tu devi fare delle visite di controllo ogni sei mesi circa dove ti mettono un apparecchio sul cuore in realtà te lo questo poi un giorno ti dovrei far venire con me assolutamente perché impazziresti cioè io sto seduto a un tavolo e un tizio con un computer fa battere il mio cuore più veloce e mi dice guarda adesso il tuo cuore batterà un po' più veloce e quindi tu senti come se stessi correndo ma sei fermo assurdo e lo fa solo perché con un computer si sincronizza col tuo col tuo dispositivo infatti io immagino sempre che se fossi un super eroe il mio super cattivo avrebbe questo potere di farmi esplodere il cuore che è una roba assurda e quindi io ho anche un dispositivo a casa che è vicino al comodino e ogni sera wifi io non faccio niente lui ogni giorno fa un controllo e manda tant'è che quando si scarica la batteria perché si scarica io ogni anno ogni tot quando si scarica che mediamente si scarica ogni 10 8 anni il primo anno io l'ho fatto andare avanti purtroppo gli ho fatto fare tante scosse che mi hanno ribaltato perché ero scemo però l'ho scaricato molto prima però tutte le volte io come se fosse l'iPhone o un Galaxy spero sempre che esca il Plus l'S Plus l'Ultra eccetera perché spero sempre che sia più piccolo che sia invece sempre uguale purtroppo per ora e quindi faccio questa ho questo dispositivo qui e te lo mandano c'è anche un Deplian e nel Deplian ci sono solo signori anziani che ridono come se fosse pubblicità delle dentiere e quindi dico cazzo io sono l'unico giovane un mese dopo europei di calcio il palcoscenico sportivo uno dei più grandi del mondo a Ericsson giocatore molto noto anche in Italia per aver giocato nell'Inter succede una cosa atroce che io vedo da fuori quindi la prima volta che vedo questa situazione da fuori e quello che è successo a lui è quello che succedeva a me e questo diventa tra l'altro uno spot incredibile non tanto per il libro che sembrava un'iniziativa di marketing pazzesca ma per questa cosa qua perché non è importante solo il fatto di avere un defibrillatore vorrei di metterlo perché non è obbligatorio ma è facoltativo mettetelo se avete una situazione di questo genere ma il discorso del primo soccorso che è l'altra cosa che ho fatto con la raccolta fondi perché Ericsson molti scrivevano miracolo cioè non era un cazzo di miracolo era che tutti quelli attorno a lui sapevano che cosa fare perché nei paesi dell'est in generale al nord hanno una cultura maggiore per quanto riguarda il primo soccorso e la prevenzione invece noi qua piangiamo sempre dopo quindi tutti sapevano cosa fare il defibrillatore è arrivato in poco tempo lui si è salvato e così via insomma è diventata un'occasione e io ho capito che cacchio questa cosa succede anche a livelli altissimi purtroppo era successo in Italia anche in altri casi noti e io tutte le volte vedevo quella roba e dicevo cacchio ed è per questo che sono contento che con il libro alla fine oltre a poter raccontare me e i messaggi che io cerco di veicolare ho potuto raccontare anche un qualcosa in cui possono ritrovarsi tante persone e magari parlare di più di un tema di cui non parlava nessuno sostanzialmente no è molto bello e ripeto sono cose che poi in un modo o nell'altro colpiscono tutti e tutti possiamo esserne parte la cosa che però mi ha colpito di più del libro è che tu spieghi molto bene come questa ci sia tutta la parte medica e scientifica gli interventi il cambio il primo problema il secondo problema questo sì e questo no all'inizio non riuscivano a trovarti cosa avevi e quindi hai fatto questo e quindi hai fatto quello però saltava sempre fuori questa dimensione psicologica personale che appunto il tuo cuore impazziva sì se c'era sforzo ma anche se c'era la partita punto a punto la cosa particolare questo quell'altro e tu come hai fatto poi a ritrovare questa cioè forse il tuo segreto è stato poi ritrovare la stabilità psicologica no? sei andato in India sei andato di qua sei andato di là e lì è stato è vera questa cosa nel senso che poi anzi mi fa impressione perché poi io faccio ho scelto di fare un lavoro in cui le emozioni sono importanti cioè io ho detto io lo dico anche perché se un giorno dovessi salire su un palco e per qualche motivo faccio le scale un po' velocemente per salire e sono emozionato ci resto lì e nessuno capisce che cosa è successo io leggendo il libro dicevo ma scusa da quando lo conosco lo vedo fare cose sempre più impegnative come mai che non è successo niente è stata la cosa per cui la gente poi è rimasta impressionata perché io nella mia quotidianità racconto di fare sport giocare a basket lanciarmi col parapendio fare una vita veramente dove non mi fermo mai anzi questa cosa è sempre poi tu sei super competitivo cioè io mi ricordo quando giochiamo a basket dicevo no io leggendo dicevo ma non può essere la stessa persona però vedi quella competitività ad esempio è vero sono molto competitivo nello sport mi creava quella discorso del cuore però quella competitività mi è servita nel lavoro che faccio perché comunque diventa poi fondamentale in qualche modo però c'è stato un momento è stato è tutto un processo è tutto un processo è tutto un percorso per citare l'amico Lele Adani nel percorso siamo nel percorso perché non è successo dall'oggi al domani ci ho messo 5-6 anni a tornare in bolla e a mettermi con bolla tra l'altro Sara che più o meno sono passati 5 anni da quando sono stato male 6 anni però ad esempio anche lei all'inizio non sapevo come dirgli questa cosa poi coincidenze della vita suo papà è cardiologo quindi era proprio scritta sta cosa io non lo sapevo prima però mi è servito per sicuramente crescendo tu maturi ho trovato altre cose che per me altri obiettivi e e ho capito che potevo fare tante altre cose senza senza star male banalmente ho trovato altri stimoli mi sono ritrovato a a fare cose cioè tuttora oggi io mi sorprendo di fare cose che non sapevo di saper fare cioè recentemente sono andato in Florida a fare per un progetto con un campione con Massi Piffa campione di wakeboard grande bravissimo che tu lo conosci bene che abbiamo fatto insieme il wake the city in mezzo ai coccodrilli esatto sono andato con lui e mi sono ritrovato su una tavola da surf non sapevo di saperlo fare ovviamente mi ha spiegato lui mi ha insegnato eccetera ma se io non ci avessi provato o se non avessi avuto lo stimolo la curiosità eccetera eccetera non l'avrei mai c'è tanta gente che pensa di non saper fare delle cose ma semplicemente perché non ci ha provato e questa mia attitudine questa mia voglia spinta dalla voglia di raccontarle anche perché la voglia di raccontare le cose mi ha permesso di viverle ed era una cosa che prima non mi succedeva e chiaramente però è stato è stato lungo questo percorso qua perché comunque in quella fase soprattutto adolescenziale mi sentivo diverso mi sentivo in difficoltà non volevo far vedere la cicatrice però pian piano tu ti rendi conto che le cose invece importanti sono altre che i miei sogni più grandi li dovevo ancora raggiungere e quindi ti interfacci con tutta una serie di realtà che ti fanno crescere quindi in tutte le cose insomma a me adesso il fatto di fare tante cose comunque mi alimenta molti dicono ma non sei stanco sì sicuramente la mia voce lo dimostra sicuramente sono un po' stanco però è tutta roba che mi dà energia per farne per farne altre ed è ed è quel motivo per cui io magari se parlo con te che è una mentalità molto simile alla mia mi gaso perché di ogni cosa che ci viene in mente diventa un'opportunità e invece questo è un cioè per questo mi piace magari anche andare all'estero perché ritrovo questo pensiero questa voglia di fare in tante altre cose mentre purtroppo in tante realtà in Italia e sono contento che invece il basement stia funzionando proprio perché è quello che cerco di far passare ed è per questo che mi piace far parlare anche gli altri perché la tua opportunità è anche la mia opportunità di imparare qualcosa di pensare a un progetto insieme invece qua siamo sempre tutti sono sempre tutti abituati a guardare il proprio orticello io ero convinto in tutto quello sbattimento che ti ho raccontato prima che lungo la strada avrei trovato qualcuno che mi avrebbe preso sotto braccio e mi avrebbe detto ok dai Giallo che adesso sei arrivato fin qui adesso ti insegno ti insegno la vita ti insegno a fare questa cosa ti faccio fare questo e invece non funziona così zero la cosa che mi sembra che sia cambiato tanto in Italia oggi non so se sia cambiato perché io prima non l'ho vissuto vivo di racconti è che non ci sono maestri cioè io non trovo uno non ho mai trovato uno che mi abbia voluto tranne qualcuno proprio grande o qualche perché i grandi veri sono così tranne qualcuno non ho mai trovato uno che abbia voluto spendere il proprio tempo per insegnarmi qualcosa io ho sempre avuto dei maestri indiretti ho osservato che è comunque per carità va bene cioè ho preso ispirazione da qualcuno ho osservato ho fatto disfatto ma non c'è mai stato qualcuno che abbia puntato c'è un'altra cosa che sta succedendo oggi e che quasi nessuno vuole credere nel progetto cioè anche quelli che fanno i manager io ne vedo tanti ho vissuto tanti ho vissuto tanti amici che sono stati rovinati tanta gente che non è riuscita che non cioè non c'è ti prendono quando manager devo entrare per forza io e sfruttare questi ultimi dieci minuti di tempo anche perché mi sa che siamo andati belli lunghi ma forse non c'è neanche più la voce per poter andare avanti è vero vabbè io mi presento sono Alberto Marin e non parla mai quindi mi stupisce questa sua voglio fare questo regalo perché difficilmente mi si vede non mi piace apparire e però voglio fare questo regalo e questo sforzo per Gianluca perché Gianluca comunque al di là di tutte le cose che si vedono attraverso i suoi social attraverso i contenuti che fa è una persona che secondo me ha una forza incredibile io lavoro con diversi artisti lui mi ha sostanzialmente stregato e convinto fino dal primo giorno perché ho visto in lui una preparazione ha anche una grande forza nel credere nei propri obiettivi è un atleta perché comunque lavora e si prepara in maniera costante si pone degli obiettivi molto alti alcuni ovviamente sui quali ci sta ancora lavorando altri invece ha ottenuto secondo me dei risultati che vanno anche al di là delle come anche con Passa dal Basement al di là delle nostre più come dire rose aspettative e basta voglio ti dire questo però guarda la cosa bella in realtà è perfetto perché quello che dicevo prima è proprio questo cioè tanti oggi prendono quello perché siccome uno riesce a crearsi un pubblico da solo riesce a fare delle cose prendono quello che è al top in quel momento lo spremono per un anno intero per due anni il tempo che dura e poi ce n'è un altro con Albi abbiamo fatto un lavoro importante perché ha creduto in me e Graziella anche con cui collaboro e collaboriamo che è sempre mia manager su tutta la parte editoriale cioè prima cosa ci vogliamo bene che è la cosa più importante di tutti e che in questo fantastico mondo e tu lo sai meglio di me è una roba rarissima ed è per me la prima cosa da cui si parte per poi fare tutto il resto con Albi in particolare ricorderò sempre la prima chiacchierata che abbiamo fatto dal Polpetta che è il bar che c'è di fronte a Radio DJ dove io pensavo che in realtà lui mi volesse parlare di un'altra cosa totalmente non credevo mai questo e invece c'era l'idea proprio di un percorso di un progetto e quindi di partire X per diventare io spero che la maggior parte dei miei sogni ancora si debbano si debbano avverare però già essere riusciti a fare questa cosa e il basement è la dimostrazione perché il basement nasce da un da un progetto condiviso e da come dire da un qualcosa sia fisico che spirituale messo a disposizione da parte di tutti per poter andare avanti in un'unica strada non so in quante persone riuscirebbero a fare questa cosa e Albi ha creduto in me fin dall'inizio ce ne sono altre persone che hanno magari creduto in me lungo lungo la strada gli sarò grato in primo a tutti gli ospiti che sono venuti qui ne approfitto dato che siamo anche verso la chiusura perché ovviamente te ad esempio Yaki sei stato uno dei primi a credere in questo progetto per me è un valore incredibile come tutte le persone che sono venute qui e sono venute qui per me per il basement e non perché c'è dietro un editore grosso un mezzo televisivo un qualcos'altro quindi se questo progetto è cresciuto è grazie a loro e se siamo arrivati dalla puntata 100 così è grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo io vedo tutti quando mi taggano mi fanno le parole che vengono spese cioè per me quella roba ha un valore inestimabile perché io me l'ero immaginata questa cosa ce l'avevo la visione di questa roba nella mia testa bisognava farla succedere è successa sta succedendo speriamo che possa diventare sempre più grande il futuro insomma può riservare ancora tante cose però vedere insomma il fatto che poi chi lo segue in qualche modo si sente rappresentato da questo posto e ne condivida lo spirito cioè alla fine ognuno ha i followers che si merita io questa cosa la dico dall'inizio cioè se tu semini odio avrai odio tra i tuoi followers se tu fai delle cose la conseguenza di ogni cosa è quella e io sono molto orgoglioso delle persone che mi seguono dall'inizio non solo dal basement ma anche in tutto quello che faccio perché in qualche modo rispecchiano quello che credo di pensare anche io e ritorno al discorso un po' di quello che viviamo adesso gli influencer anche a te a te come ti definiscono oggi Yaki io mi definisco youtuber tu sì ma la gente quando dice content creator content creator no aspetta visto che siete qua spoiler spoiler delle prossime puntate allora dipende in realtà quando quando esce questa non so se alcune saranno già uscite no perché non li sa ce ne sono alcuni che mi farebbe molto piacere non so quando esce questa posso dire una cosa passa dal basement secondo me ci sono stati due momenti che secondo me sono stati due game change del format e non smetterò mai di ringraziare queste persone perché secondo me sono state coloro che hanno alzato l'asticella insieme al valore generale del format che comunque c'era fin dal primo giorno quindi non le nomino però potrete immaginarle non smetterò mai di ringraziarle perché hanno creduto perché venire anche qui come hai fatto tu e te dal giorno zero significa non solo fare o restituire qualcosa a Gianluca perché se lo merita ma significa anche indirettamente credere in un progetto editoriale che stiamo cercando di realizzare e soprattutto cercando di proporre qualcosa di nuovo quindi ci tengo a ringraziare veramente tutti per l'energia che ci hanno trasmesso alcune volte molto di più di quanto noi ce l'aspettassimo insomma perché vedere degli artisti così forti andare via ringraziandoci e cercando comunque di restituirci anche lo spazio che abbiamo dato a disposizione per poter raccontare qualcosa di più di loro che non sono mai riusciti a raccontare all'interno di altri contenitori è veramente una soddisfazione immensa altri artisti che arriveranno ce ne saranno parecchi adesso io il palinsesto non me lo ricordo però comunque abbiamo tanta roba e soprattutto anche un riscontro positivo è bello perché alla fine sono persone molti a volte trattano gli ospiti come se fossero la merce del proprio negozio invece sono persone con cui abbiamo dei rapporti che magari hanno voglia loro di raccontarsi quindi questa è la cosa più bella vedere quando c'è il riscontro e che sono contenti di raccontarsi in questo modo secondo me noi abbiamo un po' intercettato quella voglia che avevano gli artisti o i personaggi di diversi mondi anche imprenditori eccetera di raccontarsi di dire delle cose ma di non trovare un contesto credibile e che abbia avuto lo spazio e che gli siano magari state fatte le domande giuste perché magari alcuni artisti alcuni personaggi vogliono dire delle cose però giustamente se non gli fai la domanda non la puoi magari quella cosa lì non la puoi dire quindi questo è importante l'altro ringraziamento secondo me che faccio e che non credo che avrei mai fatto nella vita e che secondo me è quasi anche il più importante che io ringrazio tutti quelli che invece non ci hanno creduto in questa cosa cioè che non hanno creduto in me in passato che non mi hanno mai fatto fare un programma in televisione nonostante venissero sempre a dirmi Giallo sei un grande sei bravissimo vedrai che un giorno farai faremo presenterai Sanremo tutte quelle cose che ti dicono ma che in realtà poi sarebbero loro a doverti dare la possibilità perché non me la stai dando perché sono un bambino ma ho 35 anni ma questo è un altro discorso posso rispondere a questa domanda perché come dico sempre nella vita alcune volte non ottenere ciò che si desidera è un colpo di fortuna con questo vi saluto no è vero bella lì no ci serve ci serve un piano per arrivare a Michael Jordan beh adesso volevo dirtelo però ci arriviamo e quando lo interv... io mi metto lì nell'anno solo per fargli la domanda quando hai incontrato Michael Jordan a Michael Jordan se intervisti Michael Jordan non mi chiami no no io mi offre allora ci sei tu sulla lista e Marco Evangelisti che saluto che gli ho promesso che se un giorno dovessi dire Michael Jordan come quella volta esatto no dicevo ringrazio appunto chi non ci ha chi non ci ha creduto in me nel progetto perché io il basement l'ho proposto in tante forme con altri nomi in passato a tanti grossi editori a tante cose non ci ha creduto nessuno perché solo così ho avuto lo stimolo e la voglia e la forza di farlo da solo e in qualche modo creare tutto questo e sono contento che abbiamo fatto questa chiacchierata oggi con te e io ringrazio Gianluca Gazzoli perché senza Gianluca Gazzoli non ci sarebbe Gianluca Gazzoli pazzesco bello e poi ovviamente oltre agli artisti oltre a tutti coloro che ci stanno seguendo tutto quello che abbiamo detto ci tengo anche a ringraziare invece tutto il mondo diciamo degli addetti ai lavori di quelli che stanno dietro e magari non non vengono non vengono visti quindi dagli uffici stampa ai manager le etichette discografiche che magari hanno visto in questo progetto prima di altri il potenziale magari in me ma soprattutto sempre riguardo il fatto che ci sono tanti puntini che si uniscono spesso sono magari persone che conosco veramente da tanti anni che mi hanno visto veramente crescere lungo il periodo e che quindi magari avevano piacere insomma avevano riconosciuto in me un valore per cui fare questa cosa qua e insomma hanno visto hanno dato un senso a tutto quello che stiamo facendo quindi ci hanno magari creduto e hanno permesso anche che certe cose accadessero e non era assolutamente scontato quindi ad alcuni di loro ovviamente io insomma alcuni di loro li ringrazierò ovviamente per sempre e hanno reso possibile tutto questo poi è bello se proprio il discorso che i puntini si uniscono mi fa impressione perché poi alla fine proprio per il fatto di aver fatto tante cose io mi accorgo sempre quando vado che ne so a un evento non so di un certo tipo una festa un qualche evento anche una cerimonia un po' patinata eccetera e quando arrivo lì che magari arrivo diciamo adesso sul tappeto dove ci sono tutti i momenti di salute eccetera in realtà conosco tutti perché conosco il buttafuori perché magari in qualche evento del passato avevo cercato di imbucarmi e lui mi aveva sbattuto fuori ma poi siamo diventati amici conosco il cameriere perché magari era un amico con cui avevo fatto il cameriere il fotografo con cui avevo fatto magari il backstage di qualche lavoro chissà quanti anni prima e questa è una cosa bellissima il fatto che ci sia anche questo tipo di rispetto da parte di tutti ed è per questo che alla fine mi ritrovo a salutare a parlare magari di più con loro questa è una figata non solo tanto umanità la stessa umanità di cui sono particolarmente contento che arriva alle persone perché passa dal basement la vera figata è che è entrato davvero nella vita delle persone cioè un sacco di persone mi fanno vedere i momenti in cui lo guardano che io sento che ne parlano quando sono magari che ne so a un bar con gli amici si discute della puntata delle cose che sono state dette dentro insomma è una roba davvero forte che ha un impatto davvero sulla vita delle persone io vorrei che ogni volta che finisce una puntata qualcuno viene voglia di fare qualcosa e questa cosa sta sta succedendo e sta funzionando ed è forse uno dei miei orgogli più grandi riguardo questo riguardo questo progetto quindi è forte sta funzionando molto di più magari di tanti progetti cosiddetti o comunque formato cose che si vedono cosiddette tradizionali che magari vengono spinte tantissimo però poi di fatto in realtà non funzionano e questa invece sta andando e forse sta partendo proprio dalla dalla gente che è la cosa più bella in assoluto e che rende diciamo un progetto una missione una cosa ancora più grande grazie Iachi grazie Gianni poi devo capire meglio del tuo meccanismo ma lì guarda adesso chiediamo se si può fare un video di approfondimento su questa cosa qui fatto dal tuo punto di vista quindi sulla parte tecnologica su questa cosa qui secondo me è interessante perché la gente non ha minima idea di come può funzionare c'è il show dei cateteri delle robe assurdo eppure si possono fare lo stesso grandi cose tutto si può fare grazie Iachi davvero grazie a tutti voi questa era la puntata 100 sì ho parlato un po' più del solito ma insomma era per rispondere anche a tante altre domande o tante domande e curiosità che avete fatto qualsiasi altra cosa scrivetela nei commenti di questo video come funziona così soprattutto quali sono i nomi adesso degli ospiti per cui anzi secondo cui Albi c'è stato il game changer esatto c'è stato il game changer quali sono fatecelo sapere Iachi grazie prego ciao alla prossima finisce così devi schiacciare il tasso del caos quello giallo no grazie Gian a posto aspetto Michael Jordan mandata vado vai